Eccoci di nuovo qua con The Legend of Zelda Phantom Warglass Benissimo, possiamo continuare la nostra avventura Dovremmo trovare la chiave che aprirà questa porta e che ci condurrà nel boss finale Ecco, qua è una cosa abbastanza difficile C'è pure il fuoco, dovremmo spegnere questo fuoco Ecco Ci siamo riusciti a distruggere tutti e si apre la porta che ci condurrà verso la chiave Prendiamo le vite che saranno sicuramente qui Ecco E ora abbiamo completamente tre vite Qua è molto difficile Vediamo Quello è ancora vivo No È riuscito a scappare Ecco pure l'altro E ci siamo riusciti Con i due scheletri Leggiamo qua Quando tutte e tre le torcia non accesa la via si aprirà Ecco Ne abbiamo accesa una Ecco come accenderemo le torcia Guardate attentamente Wow wow Accese tutte e tre e la via si aprirà Proseguiamo 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 Ora ho bisogno di vite Ecco Prese le vite Finalmente ed eccola qua la chiave Abbiamo ottenuto la grande chiave Ora andremo molto lentamente Ecco qua Ora apriremo la porta Che ci condurrà nelle vie Nella grinfia del boss finale Braz mi sembra che si chiama Una cosa del genere Ecco Apriamo la grande porta Un po' più veloce Se vuoi tornare all'entrata del santuario Avanzi verso la luce blu Che sarebbe questa Se voglio tornare all'inizio Mentre Lo spirito del potere protegge Mi dice di fare attenzione Stiamo per avvenza Scusate Braz Ecco il soprano del fuoco Vi spiego come Cosa Dobbiamo fare No Li dobbiamo unire E poi con la spada Attaccare E' molto difficile Ecco Attacchiamo Attacchiamolo una seconda volta Amoni Dai Li dobbiamo quindi unire Si può attaccare Ma è molto difficile Ecco E' recuperata una vita Li abbiamo uniti Una seconda volta Ancchiamo E' una seconda volta ed ecco brads il sovrano del fuoco che si divide in questi tre fantasmini ecco le dobbiamo attaccare mentre sono uniti come vi ho già detto però mi attaccano con questi siccome il no svia è molto lento mi viene un po' difficile ecco ma che è successo non posso essere morta la tua vita io non so perchè forse per il no sbia perchè nel nintendo sono riuscito a distruggerli in un primo colpo ecco qua va veloce ecco brad il sovrano del fuoco e si divide in questi tre fantasmi di fuoco no 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 voi non andate da nessuna parte se prima non mi sconfingo ok non ho più cosa dire ma non può finire qui ragazzi perchè io riuscirò a batterlo questo brazzo il sovrano del fuoco grazie a tutti ecco lo stordito si è diviso una seconda volta prendo una nuova vita corre e attacca questi tre demoni la cellula mi confondo ogni volta bene mi stanno facendo confondere ecco forse ho capito faccio tutto con il boomer una vita una nuova vita un'altra vita ecco il problema è che ho poco tempo no non possiamo vedere come fare possiamo proseguire lo scappo non si sa mai prendo una nuova vita tutta volta credo di farcela ho tre vite dai per qualche secondo si trasforma nel suo aspetto originale non si sa mai Grazie a tutti. 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 Forse facendo questa giravolta ci dovrei riuscire. Va pure lento. Perché c'è il Camtasia studio aperto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco forse. Ci sono riuscito. Non ce la va più. Ecco qua il nostro link. Ma forse. Ma forse perché sto registro. forse. Forse se continuo così lo posso battere. ragazzi. Ecco l'ho battuto. ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta finalmente. Ecco che l'abbiamo battuta. questa è la grande energia. E' la grande energia che spregiona. Ecco lui. Lui è Leaf e si unirà alla ricerca di Duncel. Che sarebbe la renazione di Zelda. Ecco. Ora. Oltre a Shayla. Abbiamo anche Leaf. Dovrei andare ora da Astrid. Vediamo cosa c'è qui dentro. E noi. Ci vediamo nella prossima parte. Della guida di. Legend of Zelda. Phantom Orglas.